Un nuovo anno scolastico per gli studenti della nostra città, per gli studenti del mondo. Cosa augurare loro? Che sia diverso da quello che hanno appena lasciato, cioè che sia un anno in presenza, un anno che rinnova un po' la gioia di essere insieme come studenti e come realtà di scuola in unità con i propri insegnanti. Che sia un anno in cui si rinnova la speranza per il futuro, per poter crescere come persone che un domani saranno loro a guida del nostro paese. Quindi poter acquisire in questo tempo conoscenze, valori, ideali e senso di responsabilità, che sicuramente è il punto su cui ci giochiamo. Lo sanno tutti, sono vecchie problematiche sulle quali stiamo lavorando molto. Che esiste per i nostri telespettatori? Certo, sono i problemi di spazio. Noi siamo una comunità scolastica molto affollata, con molte attività, che purtroppo vengono continuamente limitate, soprattutto quelle laboratoriali ad hoc, perché trattandosi anche di un liceo linguistico con parecchie lingue, avrebbe bisogno di laboratori più appropriati. Diciamo che su questo argomento il lavoro è stato fatto, c'è stato molto impegno in questo senso. Il risultato purtroppo non è quello che ci auspichiamo, ma soprattutto non è quello corrispondente ai bisogni di questa comunità. Per ora ci accontentiamo, ma siamo solo all'inizio, perché i pochi ambienti che abbiamo recuperato ancora ci tengono costretti. Tanto è vero che partiremo solo lunedì prossimo con un orario definitivo. Fino ad ora siamo in attesa di consegne e di cantieri ancora in corso, che finiscono in pratica. Poi per chi studia lingue, good morning, guten morgen, buenos dias, bonjour, a seconda di quello che uno sta studiando. Mi sono dilettato di questo perché a me piacciono anche molto le lingue. Sono molto contento di essere qui con voi oggi, invitato dalla preside, da tutta l'istituzione scolastica. Sono tempi un po' difficili, però anche pieni di speranza per il futuro. È bello essere ritornati in presenza, è bello poter riabbracciare gli amici, i compagni di scuola, avere i professori non semplicemente sullo schermo, ma davanti a noi. E questo è un periodo che deve infonderci tanta energia, forza, speranza per il futuro. Sono anni importanti, preziosissimi per la vostra vita, come lo sono stati per la mia quando avevo la vostra età. E me li ricordo ancora con grande nostalgia e con grande gratitudine. È la possibilità, in questo tempo della vita, di acquisire tante conoscenze, di stabilire molti rapporti e anche accorgersi che la scuola non è solo trasmissione di conoscenze, ma anche educazione alla vita. Educazione quindi a quelli che sono i valori fondamentali del nostro esistere, della nostra convivenza sociale. imparare il rispetto, l'accoglienza, la convivenza con la diversità, con chi è diverso da noi. Ecco, tutti però siamo importantissimi e di tutti c'è bisogno, quindi è fondamentale che sappiamo essere come un mosaico in cui ogni tessera contribuisce alla immagine totale. Quindi sono molto lieto davvero di essere con voi, anche se non vi posso incontrare tutti in presenza e di persona, ma ci sarà, spero, occasione in futuro. Vi auguro un buon inizio di anno e che, insomma, questo anno possa davvero ridare molta gioia e molta speranza per un cammino che speriamo, ecco, ci porti a riprendere le nostre attività con serenità, con tranquillità. Certo, ognuno ancora deve fare la propria parte, deve essere attento a rispettare quelle che sono ancora, le necessarie attenzioni, ma noi ci auguriamo che presto appunto possiamo riprendere il nostro cammino scolastico, umano, sociale, con libertà. Quindi buon anno di cuore a tutti e vi assicuro un ricordo al Signore per ciascuno di voi. Grazie.